oggi viene in veste di di super donatore perché lei è dona dall'età di 40 anni 39 39 e ha visto crescere la visfano praticamente direi che sì il comandatore sorassi che aveva un rapporto di lavoro con lo zuccherifigio ma ruolato e da lì c'erano 10 10 10 persone che donano pochissimi la banda città di fano accompagnato la partenza del corteo celebrativo dei 70 anni della fondazione di avisfano i festeggiamenti domenica scorsa hanno preso il via con una santa messa celebrata da don mauro barnese alla rocca malatestiana seguita dal corteo per le vie del centro storico e dalla consegna delle benemerenze ai donatori è la festa delle donatrici e donatori che quotidianamente pensano al mondo della solidarietà oggi giorno di san francesco patrono d'italia ed è anche una particolarità è la festa italiana del dono proprio di coloro che fanno della sussidiarietà e della promozione di se stessi agli altri un evento spettacolare oltre alle autorità civili e militari erano presenti rappresentanti del mondo avis e del centro trasfusionale nonché chi ha visto crescere l'associazione fanese come l'infermiera manuela mercanti andata in pensione nei giorni scorsi e premiata per la dedizione la passione e il sorriso con il quale ha sempre accolto tutti i donatori seduto in platea anche alfredo turolla turatti 100 anni e 40 giorni che per quattro decenni ha fatto parte del direttivo di a visfano e davano a fine donazione che cosa ti mandavano giù dalle suore erano le suoi ti mandava la bistecca mezzo litro di vino oppure il cognac il cognac ti lo dava subito arrivate invece dalla sardegna per le celebrazioni la testimonia al nazionale antonella bua particolarmente legata a pesaro città della sua rinascita dove è stata sottoposta ad un trapianto di midollo osseo a causa della talassemia donatori di sangue devo devo la mia vita se non ci fossero stati loro non ci sarei stata io e tra coloro che hanno dimostrato un grande cuore c'è sicuramente il signor orazio gasperini con 257 donazioni di sangue plasma mi sento felice perché quello che fai lo fai per qualcosa di utile e perché c'è veramente chi è che ha bisogno auguri a visfano